centro congressi mico di milano per il world business forum siamo con javier zanetti vice presidente dell'efficio internazionale ma soprattutto qui oggi come fondatore della fondazione pupi grazie già per essere con noi grazie a tutti voi ecco parliamo subito dell'importanza di essere a un evento come questo per voi della fondazione è molto importante perché ci sono tante tante aziende tante persone che si occupano anche della responsabilità sociale e noi con il lavoro che facciamo in argentina con tanti bambini possiamo creare delle allianze ecco exponential è il tema della tema principale di questa manifestazione come lo declinate voi soprattutto facendo conoscere tutto quello che facciamo per i nostri bambini la situazione argentina di grande difficoltà non solo in argentina se non tutto il mondo però credo che avere un impatto sociale importante soprattutto trasmettere dei messaggi importanti possa aiutare a tante persone per chiudere le sfide del futuro per fondazione pupi la sfida del futuro continuare a crescere sappiamo che come dicevo prima ci sono tante problematiche però l'importante che questi bambini abbiano delle persone giuste che le possano indicare la strada da seguire e soprattutto che loro percepiscano un futuro migliore fare gol anche da un altro punto di vista in buona sostanza non soltanto sul campo io credo che questo sarebbe un gol molto più importante perché qui si sta parlando delle persone e credo che è questa cosa qui al di là di tutto grazie Giavezzanetti per essere stato con noi a voi grazie a tutti